ciao a tutti ragazzi sono eluchetto e benvenuti nel canale siamo lasciati nello scorso episodio lasciando il vulcano e siamo arrivati nella parte finale del gioco arrivando in città come potete vedere ho il gattino sulle mie spalle e possiamo iniziare un altro posto meccanica giallo questo colore è vita come? zitti zitti ok corri 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 hai visto? ancora tante forse oh ci aspettiamo quale piattaforme molto triste triste desolato mamma mia il narratore perfetto come descrive e qui? oh mamma mia ho pensato che si attivassero e qui si tutto nuovo ah eccolo già così facile giallo prendiamolo ooooh ooooh una scintilla ah pure energy life maker death bringer bellissimo bellissimo ragazzi bellissimo ragazzi e i vane sono pieni con oh l'elettricità è il giallo l'elettricità è il giallo giallo thunder spark l'elettricità ah abbiamo accettato questo bellissimo ah ah dobbiamo collegare i circuiti bellissimo wow ok perché c'è lui lì dentro oh così ti sa se ci sono degli umani così chissà se ci sono degli umani questo gioco oh ok siamo ritornati in città mamma mia ah non da da sotto ragazzi certe cose sono più ovvie questo qua e qui non possiamo invocare però li possiamo sparare ok ok ci ripeto che qualcuno è aia temore qua rimbalzino sei rimbalzino ma facciamo un fuochino ok molto più semplice fuoco può spingere di uno di là mamma mia il temporale e come faccio a mettere uno di tutte e due ok uno mettiamo qua gli altri dove vanno uno qui e l'altro su l'altro su questo dove va no giallo giallo questo qua va va e va troviamo ok è davvero carino come si fa va giù va giù no no non ti togliere non ti togliere se qualcuno ha costruito questo come era allora questo qui e va da stare mamma mia spara brutto 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 sparo fammi in faccia ragazzi se qualcuno ha costruito questo come era prima è così è così ragazzi e non ci spara tu sei il primo colpo se mi butto già non capisco prima andiamo meglio è e se io lievito bellissimo sta piovendo sta piovendo un deserto qualsiasi sia è stato distrutto per construir questo qualcuno ha vivuto qui prima di te e hanno distrutto il mondo bellissimo 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 ragazzi riflettete su quello che ha appena detto viviamo per noi stessi una cosa una cosa si 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 molto attenti ok se dice che posso passare dopo aver usami il fuoco dai non l'ho capita ragazzi questa è la volta buona vediamo quando incontita posso passare mannaggia quindi devo saltare dai guarda basta ah dai è facile molto lento adesso lo lascio ok quindi per poter passare devo distrarre quello se lo distrago con questo vediamo questo succede no scivoliamo facciamo scivolare no no qua non capisco cosa fare uno è andato uno è andato quindi se li faccio così ok 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 intontito perfetto ok 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 ma devo perché devo sopravvivere devo evitarlo perché poi si lo ammazza ho un dispositivo vediamo no no giallo giallo siamo un po' distratti oggi ah ecco ah ecco wow quindi se sto nel loro raggio d'azione muoio ma è qui come è così ok questo è dopo così voilà la magia la magia allora qui questo va qua aspetta eh ma muoio è muoro ecco sì non muoro ecco come non muoro ah ok ma ragazzi è a culo qua veramente a culo no perché sono tornato dietro devo sbagliare qua e non torniamo qui là questo va là questo va qua questo va qua ammazza lui poi l'ammazza lui ok cancelliamo tutto mamma mia allora qui questo manda le onde è qui questo manda le onde è lì è questo ma tu manda le onde è questo va qua allora ricolleghiamo tutto le onde passano lo aspetto passo 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 più più passo 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 ok grande passo go roto ti ho capito ragazzi ma ingegno oh niente oh guarda wow ah vola 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 Mini tutorial sulla tramita Quante cose Mamma mia, sto temporale Basta Ok Ah, indizio ragazzi Non ho creato niente, no? E allora Mamma mia Che cosa ho fatto? No, tornati indietro Ok, poi Disattiviamo i magneti Allora Numero 1 Numero 2 Numero 1 Numero 2 Bellissimo Ragazzi E sono stupido Ma prima Infoichiamo Questo qua Dai Prendi fuoco E poi andiamo con il giallo Andiamo su E che cosa vuoi da me? Un primo fuoco? Buffete Ok ragazzi Fatta Ci vuole solo velocità Niente Niente tecnica Che adesso Mi sa che saltiamo Eh, però non devo saltarmi sopra Allora, con il verde saltiamo dove non ci può colpire Mannaggia Ragazzi, se andiamo zitti, andiamo Facilissimo, ragazzi Zitti, zitti Giallo Cazzi, proviamo con il celeste yes usiamo sempre due o tre colori non solo il giallo allora qua cosa fa? niente e quindi non posso andare lì così celeste e no e no saltiamo rimbalzino sì ragazzi rimbalzino usiamo un minimo di intelligenze qui non va non va e quello dovevo ammazzare prima giustamente allora tu prendi fuoco nel frattempo colleggo questo questo qua cancelliamo qua giallino fluttuiamo ok e superiamo indenni questo e adesso ahia ah ok non so siamo così ragazzi forse ci sono diciamo non ci attacchiamo e tu voli ok ragazzi mamma mia mamma mia questa mi è venuta subito eh stai nanaggia stavolta stavolta tutto il percorso finché non usciamo finché non usciamo ok checkpoint per noi spara un po' tutto qua questo devo collegare questo però qua mi preoccupiamo mi sparano mamma mia come facciamo allora io rimango qui come prima non mi muovo attacchiamo tutto ok anche proiettili vediamo quindi ci mettiamo proprio qui siamo qui siamo qui e quello più sopra inizia il collegamento poi lungo uno ok deviano vediamo anche l'altro tutto ci siamo yes saltiamo e ciù qua non possiamo colorare è vuoto ecco il vuoto è la ceca ragazzi ho saltato ma guarda mamma mia come stiamo messi tutti i colori qua ragazzi non è non è non è non è non è No, no, mannaggia. Veloce, ragazzi. Dai, adesso, sicuro. Dai, ok. Giallo. Come ho? No. Attacca. Vai. Tutto, tutto. E vai. Ero lì. Perché non andavo avanti? Ero lì. Ero lì. Ok. Il primo forte. Il secondo. E il terzo. Ero lato. Ero la responsabilità. Non c'è l'altro. Qual è il nostro destino, ticciolo? Moriremo? Rallenta! Giusto. E non c'è vita. Corri! Non c'è vita senza morte. Andiamo dentro, ragazzi? Sei un vicolo cieco? Sì, ragazzi. Accettiamo il nostro destino. La vita non è una via semplice. Ci ha preso il vuoto. Ogni azione ha le conseguenze. Guarda il deserto. Non sei disposto per lasciare il mondo pericare. Non puoi riuscire più. Tuttavia questa malattia deve arrivare ad un'inizio. Finale, vediamo Ragazzi Peccato Eravamo pieni di colore Eravamo qualcosa, qualcuno E' un po' Ma poi, il void te li scopi E ti resta solo Torito Bellissimo Il viaggio Il colore Il amico Il amico Il felice Il sorriso Il rischio Il rischio E' un po' E' un po' E' un po' Il amico E' un po' E' un po' E' un po' E' un po' noi non siamo più nulla siamo bello, bello, bello però siamo soli wow ragazzi bellissimo gioco mi sono divertito tantissimo in realtà vuoto sbloccata vediamo se può saltare vediamo i credit insieme ciao ciao Mister Gogeta, la voce. Sous-titrage ST' 501 Grazie anche a noi ragazzi, grazie anche a voi ragazzi che mi avete seguito in questa serie. Spero vi sia piaciuta come è piaciuta meglio. Oh, crediti. Oltre crediti c'è un bonus. Ok. Sì. Ragazzi, hai ragione. Ok. Ragazzi, l'episodio di oggi finisce qui. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate e condividete. Grazie di cuore e alla prossima serie. Ciao ragazzi. Grazie a tutti. Ciao. Ciao.